Benvenuti negli studi di Verona Network, nuova puntata di Verona Siamo Noi, in versione estiva, parliamo di centri natatori, centri sportivi, oggi con noi a farci compagnia Marco Tosca, presidente di Piscina e Belvedere, benvenuto. Grazie, grazie. Allora, Piscina e Belvedere rilevata a ottobre del 2018, da te rimessa a nuovo con un rinnovamento dell'impianto tecnico, ma soprattutto inizi promuovendo i centri estivi per i giovani. Abbiamo un gruppo di ragazze qualificate che accolgono tutti i ragazzini che vengono a fare centri estivi da noi, la particolarità dei nostri centri estivi è il tema che noi andiamo ad affrontare, è diverso ogni settimana, quest'anno affronteremo un tema che saranno le scoperte e le invenzioni dove andremo a sviscerare tutti gli aspetti di queste tematiche. Non andiamo a trascurare la parte natatoria, quindi noi andiamo a insegnare, quindi a fare il corso di nuoto ogni mattina, andiamo a insegnare quello che è il nostro pane, quindi l'insegnamento del nuoto. Il venerdì portiamo tutti i nostri ragazzi alle piscine di Isola della Scala dove, a differenza del nostro impianto, abbiamo comunque un parco un po' più ludico con degli scivoli e andiamo a affrontare assieme a uno special guest dell'argomento come la vita reale, le invenzioni o le scoperte sono utili alla nostra vita. Non solo nuoto, quindi tanto tanto divertimento e c'è un nuovo progetto anche in ballo che partirà certamente a settembre, una novità per le piscine a Belvedere, una palestra in acqua a stazioni. Certo, per noi è una grossa scommessa perché è qualcosa che secondo me è unico in questo ambiente. Andiamo a creare una palestra a stazioni, si lavorerà intorno alle 10 persone, 12 con due insegnanti qualificate e grazie al supporto comunque di Aquatic, che ci dà comunque un appoggio nella formazione degli insegnanti e nel promuovere questo nuovo tipo di ginnastica, speriamo di dare qualcosa di nuovo alla parte acquatica, non prettamente il nuoto insomma. È una palestra che serve e si può utilizzare benissimo anche per la rieducazione, per quindi tutto quello che va a rintegrare la nostra muscolatura dopo un intervento, una contusione insomma. Sfruttando la piacevolezza dell'acqua. Certo, sì. E un altro progetto che partirà sempre a settembre, lancerete i corsi di sincro e pallanuoto. Certo, porteremo quello che a Isola già stiamo facendo, quindi il nuoto sincronizzato, la pallanuoto che ci sta dando e siamo sicuri che anche le piscine a Belvedere ci darà grosse soddisfazioni. Come abbiamo fatto nella nostra storia partiamo dai ragazzi, quindi andiamo a promuovere tutto questo con i corsi, il nostro nuoto che stiamo facendo già all'interno della nostra struttura e aprendo chi vuole entrare nella nostra società, proprio nella pallanuoto e nel sincro. E ricordiamo quindi ai veronesi dove trovarti? Siamo in via Montelungo 5 a Verona e vi aspettiamo. Perfetto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buonissima serata. Grazie.